Ok, ciao ragazzi, di nuovo, anche qua siamo arrivati a fine giornata Monete da 2 euro Siamo arrivati a fine giornata e adesso me ne vado, quindi chiudo la palestra E in questo veloce video vi voglio parlare, finalmente, di quello che è il vero tutorial per non farsi mai male le incalisteniche Quindi voglio dirvi esattamente quello che voi dovete evitare per evitare di causarvi un certo tipo di infortunio Quindi cerchiamo di mettere in relazione infortunio e quello che stiamo allenando Ricordatevi sempre che il fatto di far risorgere qualche problematica può essere dovuto a dei limiti di mobilità articolare Quindi semplicemente abbiamo un'articolazione che lì non va, noi spingiamo, spingiamo, spingiamo E a un certo punto inizia a fermare da qualche parte Oppure, magari c'è l'articolarità, ma i nostri tessuti non sono sufficientemente preparati per gestire un certo tipo di carico Oppure, ultimo caso, non siamo abituati a gestire un certo tipo di intensità, di frequenza, di volume E sussiste un sovraccarico funzionale Che poi può evolvere, per esempio, in una tendinite o in una tendinose Quindi, partiamo da quelli più, diciamo, più traumatici Quindi il distacco dei tendini e del bicipite Se sei un principiante, non allenare il back lever Se sei un principiante, non allenare l'hefesto Quindi, ecco, queste due skill Come anche, per esempio, la planche e supina Tutti i lavori in supina O abbracciatesi in supina Tendono a produrre un elevato stress al rigore del bicipite E si rischia di farsi male Fastidi al capolungo del bicipite Quindi qua sopra Back lever Deep con scarsa mobilità delle spalle Planche Quando non si è abbastanza preparati Possono causare problemi al capolungo del bicipite Quindi, a livello prossimale Andiamo avanti Fastidio allo sterno Se sei principiante Io eviterei, inizialmente, di metterci a fare le dip zaborrate Ok? Perché i tessuti hanno bisogno di adattarsi Altra cosa che può causare problemi allo sterno È il lavoro agli anelli in appoggio Quindi, per esempio, tutti i lavori di appoggio agli anelli Massolap agli anelli Possono causare fastidio allo sterno Il massolap, soprattutto se viene eseguito in modo esplosivo dinamico Arrivando a sopra la sbarra e assorbendo il carico in caduta Prima di fare la dip Problemi allo sterno Problemi, per esempio, di epitrocleite Quindi, se sei un principiante Non hai la trazione in un braccio Se sei un principiante Non vuole rimparare il massolap con le trazioni esplosive Perché stai facendo la più grande cagata della tua vita E se ti viene l'epitrocleite Non te ne liberi più Sindrome del braccio radiale Quindi, qua davanti Mosca maledetta Se sei un principiante Non allenare le trazioni in un braccio Eccessivamente Se sei un principiante Non metterti a fare subito trazioni zavorate Se sei un principiante Non metterti a fare quintali di volume sulle trazioni Se sei un principiante Non pensare a dover imparare il massolap Facendo le trazioni esplosive Perché sono esattamente quelle Che ti andranno a massacrare La parte dell'epicondino laterale In particolare, il braccio radiale Avambraccio Se sei un principiante Non metterti subito a fare la tuck planche Non metterti neanche a provare a fare la planche divaricata Magari con l'elastico Perché comunque L'attivazione è sempre dipendente dall'angolo di lavoro Se quell'angolo è stressante Puoi tranquillamente mettiti anche la loop band Quell'angolo rimane stressante Quindi bisogna sempre andarci molto molto cauti Gomito Inserzione del tricipite Se sei un principiante Non metterti a imparare i massolap Anche controllati Fare quintali di Russian deep Voler fare il TED Perché sono tutti esercizi Che vanno a massacrare L'inserzione del tricipite Sul gomito E quindi se non sei preparato Prima o poi le cose le paghi Spalle Se non hai una buona articolarità Evita di fare tutti quei movimenti Dove la presa è molto larga Perché sicuramente Se non c'è un'escursione molto buona La spalla ne puoi risentire In modo molto marcato Se non hai una buona movimenti di spalle Soprattutto in estensione Non andare a fare eccessivamente deep Deep con sovraccarico O andare a fare ripetizioni rimbalzate Perché sicuramente A un certo punto Il corpo smette di compensare E ci facciamo male Parte alta della schiena Se non c'è una buona dose Di forza In tutti i muscoli Fissatori della scapola Principalmente quindi I romboidi Il trapezio E via dicendo Il rischio di approcciare Prematuramente Lavori come Tuck front lever Front lever divaricato E tutti gli annessi Può arrivare a produrre Fastidi Parecchi importanti Nella parte centrale Della schiena Quindi se ti stanno capitando Sai che poi in mente È dovuto a quello Polsi Se non hai una buona mobilità Delle spalle Non metti a fare la verticale Perché probabilmente Andrai in avanti Con le spalle Per cercare di compensare In qualche modo Alcherai la schiena Ma l'unica cosa Che andrai a fare È sovraccaricare L'articolazione del pulso Quindi veramente ragazzi Si potrebbe stare qua A parlare ancora Probabilmente per diversi minuti Però spero di avervi fatto capire Quanto sia facile Soprattutto quando sia all'inizio Incorrere in esercizi Che molto spesso Essendo fuori Dalla nostra portata Producono un certo tipo Di sovraccarichi E aumentano Il rischio di infortunio Quindi Guardando questo video E poi Scartabellando un po' Su Instagram Quello che fanno fare Tanti allenatori Alle loro allievi Potrete valutare Voi stessi Quanto pressa pochismo Ci sia Nel mondo Di insegnamento Del calisthenic Tanti allenatori Il rischio di infortunio Di insegnamento Iniziamo 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 Grazie a tutti